I temi della pace, dei diritti umani e della lotta al razzismo sono stati al centro stamattina a Palermo di un incontro voluto dal Partito Democratico. Presente tra gli altri anche il Vice Ministro Marina Sereni. Davide Camarrone. Ricorda il Movimento per la Pace ideato da Piola Torre nei primi anni 80. Marina Sereni, Vice Ministro degli Esteri, a Palermo per un dibattito promosso dal suo partito, il PD, Cultura della Pace, Locke al Razzismo e Diritti Umani e annuncia un vertice mediterraneo e la Farnesina che a dicembre metterà insieme tanti paesi, Medialog, Dialoghi Mediterranei. Ci sono segnali bui, penso alla scorta Liliana Segre solo per dare l'esempio, c'è violenza nel discorso pubblico, c'è molta violenza nei social, c'è il razzismo, ma ci sono anche segnali di speranza e di luce, tanti giovani, tante persone che si impegnano per l'accoglienza, per l'integrazione e per la pace. La pace è un bene comune, oggi Papa Francesco è in Giappone e sarà nei luoghi della bomba atomica. Palermo posponge la funzione di Bruxelles del Mediterraneo, luogo di incontro tra Europa, Africa ed Asia con grande attenzione all'Africa. Dal magnifico rettore dell'università Fabrizio Micari l'annuncio che presto a Palermo sarà possibile frequentare un corso di laurea in inglese, immigrazioni, diritti umani e integrazione. Non appena il mio rapproverà la proposta, laurea magistrale che guarda anche agli studenti di altri paesi e sui temi della pace una legge è stata approvata alcuni mesi fa a Lars. Una serie di iniziative per diffondere la cultura della pace tra i paesi del bacino del Mediterraneo. Al tavolo dell'incontro anche Francesco Locascio, portavoce della consulta della pace costituita al comune di Palermo.